Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa in studio con voi Il governo verso una nuova stretta speranza dice Smart Working al 75% ci sarà ristoro per attività chiuse Alle 17 ci sarà la riunione del CTS dopo i 10.000 positivi registrati ieri Palazzo Chigi corre a ripari Nuovo DPCM è atteso tra domenica e lunedì per limitare la diffusione del contagio L'ipotesi in chiusura a locali notturne è stretta sugli sport ma sulle misure più pesanti non c'è ancora la sintesi e la trattativa prosegue Il ministro ha detto che l'idea di base è l'irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali Prima scuola e lavoro Covid della Caritas dice che in Italia c'è un boom di nuovi poveri tra donne, giovani e famiglie Gli aiuti di emergenza hanno raggiunto solo i già protetti Nel periodo maggio-settembre 2020 il 45% delle persone che si sono rivolti alle strutture dell'organismo della CEI Lo ha fatto per la prima volta Aiutati oltre 2.000 lavoratori autonomi Il rapporto fa emergere anche il paradosso di misure emergenziali che generano esclusione e che favoriscono coloro che già sono affiliati al sistema di protezione e assistenza sociale Cosa che genera un travaso di richieste di aiuto soprattutto in emergenza su realtà che non adottano meccanismi di selezione dei beneficiari Bonomi della Confindustria dice che i soldi del Sur servivano per le politiche attive e non per la CIG Ma l'Unione Europea li ha destinati agli ammortizzatori Secondo il numero 1 di Viale dell'Astronomia i soldi stanziati dall'Unione Europea sono andati a finanziare la CIG per il blocco dei licenziamenti Mentre dovevano servire per interventi mirati a ricollocare i lavoratori Ma la Commissione ha spiegato che l'obiettivo è proprio aiutare i Paesi a sostenere i costi direttamente connessi ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo E altre misure analoghe per i lavoratori autonomi In modo da impedire che uno shock temporaneo abbia ripercussioni negative più gravi e durature sull'economia e sul mercato del lavoro Coronavirus in Germania oltre altri 7.830 contagi La Merkel dice estate a casa In Austria e Belgio positivi ministri degli esteri La cancelliera dice l'estate relativamente rilassata è finita Ora siamo di fronte a mesi difficili Record assoluto in Polonia con oltre 9.000 casi Scatto il lockdown parziale Sospetto che il ministro degli esteri austriaco si sia contagiato durante il vertice dei ministri degli esteri europei Di lunedì in Lussemburgo La sua omologa berga invece precisa che il suo contagio dovrebbe essere avvenuto in ambito familiare Vaticano un caso covid nella residenza di Papa Francesco Asintomatico e in isolamento hanno detto Lo ha annunciato il direttore della sala stampa vaticano Matteo Bruni La salute di tutti i residenti di casa Santa Marta ha detto viene tenuta costantemente sotto monitoraggio Dal clima all'ammoniaco contro il covid così Trump ha denigrato gli scienziati che ora si ribellano in vista del voto Scientific American la rivista di divulgazione scientifica più antica d'America ha pubblicato un editoriale in cui Si invitava a votare il 3 novembre per mettere fine agli attacchi contro la scienza Quindi ha votato contro Trump Insomma ecco come la sua amministrazione ha dichiarato guerra agli esperti e dal clima al coronavirus Il covid fa esplodere l'emergenza a casa, boom di richieste per sostegno all'affitto e rischio di un 2021 con il record di sfratti L'Unione inquilini scrive che sono tutti dimenticati dal governo 50.000 le domande di sostegno all'affitto presentate a maggio nella sola capitale Ma i fondi sono in ritardo e non bastano a rispettare la promessa di coprire il 40% del canone Il sindacato prevede un'impennata di sfratti e invita il governo a sfruttare il blocco Per un piano casa che il paese attende da 30 anni Un problema strutturale dove il confronto con gli altri e grandi paesi europei è impietoso Bene cari amici con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione